Se vuoi speranza e protezione, prega San Gabriele della Dolorata In questa preghiera, ci rivolgiamo a San Gabriele della Dolorata con fiducia, implorando il suo soccorso di fronte alle avversità che affliggono il nostro cammino e la nostra gioventù. San Gabriele, specchio di innocenza ed esempio di virtù, è invocato per la sua fervente devozione a Gesù Crocifisso e la sua tenera compassione per la Vergine Madre Addolorata. Con questa preghiera, cerchiamo non solo conforto e protezione, ma anche la forza di vivere una vita di fede e virtù, guardando al futuro con fiducia e speranza nella promessa della vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O angelico giovane Gabriele, che con l'ardente vostro amore a Gesù Crocifisso, e con la tenera compassione alla Vergine Madre Addolorata, vi rendeste in terra specchio di innocenza ed esemplare di ogni virtù, ui a voi ci rivolgiamo pieni di fiducia implorando il vostro soccorso. De Mirate quanti mali ci affliggono, quanti pericoli ci circondano, e come da ogni parte si tendono insidie alla gioventù in singolar modo, per farle perdere la fede ed i costumi. Voi, che viveste sempre vita di fede, ed anche fragielle incettivi del secolo vi manteneste puro ed illibato, o involgete sopra di noi uno sguardo pietoso, ed aiutate. Le grazie da voi concesse continuamente ai fedeli, che vu invocano, sono tante, che noi non possiamo ne vogliamo dubitare dell'efficacia del vostro patrocinio. Otteneteci finalmente da Gesù crocifisso e da Maria addolorata, rassegnazione e pace, affinché vivendo costantemente da buoni cristiani in tutte le vicende della vita presente, possiamo un giorno essere con voi felici nella Patria Celeste. Così sia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie.